Buongiorno cari amici e ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi Luigi Guglielmi vi guida nella lettura delle principali notizie che ci riguardano, che riguardano il territorio bellunese. Ma prima vorrei cominciare con una notizia fresca che non trovate quindi sui giornali in edicola. Questa mattina, una notizia che c'è arrivata direttamente dai carabinieri, questa mattina un masso prima delle sette, un grosso sasso è caduto sull'asfalto, si è fermato sull'asfalto della statale 51 di Alemagna, poco sopra Cortina, dopo la località di Fiammes. Le notizie che ho in questo momento sono quelle che sono arrivate dai carabinieri con una fotografia abbastanza impressionante perché il sasso è di grosse dimensioni, per fortuna è accaduto di notte e quindi non è stato coinvolto, nessun veicolo fosse successo, credo che avremmo notizie ben peggiori perché si tratta di una roccia di notevoli dimensioni come vi dicevo. Sulla 51 quindi dopo Cortina mi dicono che è dopo Fiammes, comunque prima di Cimabanche sicuramente. Quindi restando sui fatti della 51 di Alemagna, della nostra statale principale, la spina dorsale potremmo dire della provincia di Belluno, vorrei cominciare da una notizia che è rinchiusa, racchiusa dentro un riquadro nella pagina di Belluno del Corriere del Veneto, in certo del Corriere della Sera, ma è una notizia di grande importanza e ora ve la mostro per chi ci segue in internet e la leggo per quelli che ci seguono in radio ovviamente, riapre il ponte di Santa Caterina a Ponte nelle Alpi, per ora solo a senso unico verso nord, però è già una grandissima notizia perché i disagi causati dalla riparazione, dell'ammodernamento di quel fondamentale manufatto che è il ponte sul Piave, i disagi sono stati tanti quest'estate e soprattutto per i pendolari che hanno bisogno di passare per il ponte nelle Alpi per raggiungere le aziende di Longarone. Dicevo che la notizia è del tutto positiva perché il ponte dopo i lavori, dopo mesi di lavori comincia con una parziale riapertura, vi leggo anche il pezzo, visto che è corto Ponte nelle Alpi, salvo imprevisti, il ponte di Santa Caterina, snodo principale della viabilità a sud della provincia, dovrebbe riaprire alle 19 di oggi. Le opere di sostituzione dei sottoservizi quindi acquedotto e reti telefoniche e il rafforzamento dell'impalcato sono terminati. Ieri ANAS ha cambiato i cartelli stradali ed effettuato verifiche di mobilità. Da stasera il ponte sarà di nuovo transitabile ma a senso unico da Rione Santa Caterina verso Viale Roma Area Bivio. Proseguiranno le rifiniture col posizionamento delle balaustre del 1921 restaurate su indicazione della sovrintendenza dei beni culturali di Venezia. I lati della carreggiata saranno ampliati di 75 centimetri per parte con guardrail di protezione. Questi ultimi interventi proseguiranno fino al 23 novembre quando ci sarà la riapertura totale del ponte. C'è poco da fare quando parliamo di opere di questo tipo, di infrastrutture di questo tipo. Il ricordo non può non andare al ponte Morandi di Genova, quello che è successo lì. Qui si tratta di un ponte come abbiamo sentito, come abbiamo letto, anche piuttosto vecchiotto perché significa che ha cent'anni insomma e richiedeva assolutamente delle opere di ammodernamento non solo per i danni dovuti all'età ma perché come abbiamo detto mille volte il traffico, il tipo di traffico che grava sulle nostre strade e quindi anche sui ponti che le caratterizzano è un traffico totalmente diverso da quello di 20-30 anni fa perché 30-40 anni facciamo insomma tanto più cent'anni fa perché è un traffico estremamente più intenso e soprattutto più pesante perché una volta di certo sulle nostre strade non passavano i bestioni di camion che vediamo oggi. Tornando alla pagina del Corriere del Veneto che tratta di Belluno, siamo a pagina 10, il titolone di apertura è questo Gabelli e Crepadona si parte, cantieri aperti per la rinascita, tra due anni operativa la scuola, centro culturale via il cubo di botta. Ecco queste notizie magari sembreranno marginali per chi non vive a Belluno che pure appunto è il capoluogo della nostra provincia dove risiedono 36.000 persone e quindi insomma la centralità di questa notizia di fatto è già riassunta in questi numeri. Bene, per chi vive a Belluno stiamo parlando di spazi estremamente importanti che condizionano un po' la percezione collettiva anche della città e dei suoi problemi perché le scuole Gabelli che sono state chiuse, le storiche scuole Gabelli che sono state chiuse per quei distacchi di cornicioni di cui abbiamo mille volte detto che hanno portato anche alla creazione di una scuola provvisoria all'interno del parco città di Bologna che sono le nuove Gabelli tuttora popolate da bambini. Bene, la ristrutturazione delle scuole Gabelli fornirà alla città un contenitore estremamente importante. Il cubo di botta poi, ricordiamolo, era stato fatto per la mostra di Tiziano molti anni fa, un'opera bella perché aveva consentito grandi spazi, grandi disponibilità di spazi all'interno della Crepadona ma adesso era un intralcio, costoso toglierlo, brutto da vedere, insomma un po' un disastro. Bene, l'altra fotografia, le foto che ci sono in pagina riguardano appunto il cantiere delle Gabelli il cantiere a Palazzo Crepadona, c'è un camion fuori dall'ingresso della civica, della biblioteca del palazzo e il cantiere che c'è di fianco al comunale per interrare le isole ecologiche i bidoni dei rifiuti sostanzialmente che avranno una capienza molto più grande ma saranno praticamente interrati, spunteranno su solo per la parte alta quindi rendendo più gradevole la loro vista in pieno centro di Belluno ben 540 giorni, dice l'articolo che è a firma di Moreno Gioli tanti ne serviranno per vedere il nuovo volto della scuola Aristide Gabelli e adesso è scattato ufficialmente il conto alla rovescia ieri le ditte padovani a teste costruzioni SRL di Este e ranzato impianti di Padova hanno aperto il cantiere che in poco più di un anno e mezzo di lavori riconsegnerà completamente rivisto alla città uno dei suoi edifici simbolo chiuso da 12 anni 5 milioni di euro l'investimento previsto coperti in gran parte da risorse comunali ai quali si aggiungono 1,4 milioni dal fondo governativo del bando periferie tra meno di due anni quindi la rinascita nei locali della scuola Gabelli nascerà un polo primi passi con asilo nido, scuola dell'infanzia e primaria ma è difficile ipotizzare un immediato utilizzo prima di completare l'acquisto degli arredi prima resterà da completare l'acquisto degli arredi non compresi nel finanziamento del bando questo è un problema che abbiamo già visto per il museo che ritorna insomma c'è un conto a ristrutturare i muri poi bisogna anche riempirli e sono soldi da ieri è un po' più vicina anche la nuova Mediateca delle Dolomiti che nascerà a Palazzo Crepadona un altro tassello del grande piano di rigenerazione urbana che va al suo posto anche qui ieri l'avvio ufficiale del cantiere con l'appalto vinto dallo stesso raggruppamento temporaneo di imprese che realizzerà le nuove Gabelli 2 milioni e 700 mila euro l'importo totale dei lavori andrà in pensione dopo 12 anni il cubo di botta realizzato dall'archistar Italo-Svizzera in occasione della grande mostra sul Tiziano organizzata dalla provincia poi utilizzato per numerose altre esposizioni ultime in ordine di tempo quelle legate all'edizione 2019 del festival sulla montagna oltre le vette io mi fermo qui perché voglio leggervi qualche altro lancio l'articolo comunque se vi interessa sulle opere Belluno è ancora abbastanza lungo siamo alla pagina 10 del Corriere del Veneto dunque area processi area giustizia la prima versione ritrattata omicidio stradale la madre dell'accusato l'ho fatto bere io prima dello schianto mio figlio non era ubriaco al momento dell'incidente gli ho versato io dopo un bicchiere e mezzo di grappa per calmarlo sono parole di mamma dice l'articolo il figlio in questione qui ci risparmiamo anche la lettura del nome visto che siamo a processo e aspettiamo la fine dei processi è un 39enne di Borgo Valbelluna che il 14 luglio 2018 stava percorrendo via Fabris a Villa di Villa guidando la sua sea Tibizza Gialla uscì largo da una delle curve e invase la corsia opposta dove stava arrivando una Citroen Picasso con a bordo la 75enne Piera Fugazza e suo marito di Lentiai impossibile per loro l'impatto la donna fu portata all'ospedale di Feltre dove morì 50 giorni dopo l'uomo riportò ferite lievi ecco questo era il fatto adesso appunto si va avanti e bisogna capire se veramente l'autore dell'incidente era o no ubriaco al momento dell'impatto e se questo può aver causato l'incidente perché chiaramente ciò aggraverebbe la sua posizione cornicione sbriciolato precipitano calcinacci parliamo di Belluno via Tasso c'è la foto che abbiamo messo ieri anche sull'amico del popolo dell'auto rovesciata ad Anzù senza conseguenze per l'unico occupante sentenza incassazione centralina idroelettrica alle sorgenti del Piave bocciatura definitiva vedremo che questa notizia che qui è di taglio basso altrove su altri giornali è molto in rilevo passi e tra passi libro e concerto al comunale affollato il 4 novembre la rassegna che Belluno ci offre da anni ormai la città di Belluno che si propone come una riflessione sulla morte anche qui ben altro rilievo su altri giornali il lutto De Candido l'albergatore è morto Santo Stefano di Cadore mancato ieri Virgilio Bruno De Candido nella foto lo vediamo 77 anni anima degli albergatori bellunesi gestore del Monaco Sport Hotel di Santo Stefano che De Candido mise in piedi dal nulla fino a farne un punto di riferimento del bellunesi anche qui avete letto sull'amico del popolo su www.amicodelpopolo.it ieri anche da qui le condoglianze alla famiglia alle persone vicine a questa persona che tanto ha dato per il turismo della provincia di Belluno vi dicevo delle altre copertine per esempio il Corriere delle Alpi che adesso mostro a chi ci segue sui social ha proprio in la foto grande si riferisce proprio a uno degli ospiti di questa edizione della rassegna di passi e tra passi le riflessioni sulla morte e una fotografia così che fa un po' simpatica che fa anche riflettere perché in primo piano c'è Riccardo Pirrone che è un operatore di fatto insomma lavora per un'agenzia di pompe funebri che si chiama che si chiama Taffo che si fa pubblicità con slogan e situazioni abbastanza dissacranti sulla morte con un successo così universalmente riconosciuto vi leggo il titolo e la breve di Dascalia la morte diventa business con gli spot di Pirrone la morte può essere derisa e fatta diventare un brand commerciale sì o almeno questo è quello che ha dimostrato il social media manager Riccardo Pirrone autore della campagna pubblicitaria che ha reso un'agenzia di pompe funebri romana famosa in tutta Italia i manifesti della Taffo Funeral Services insieme ad alcune storiche lapidi sono in mostra a Palazzo Fulcis fino al 31 dicembre vi leggo lo slogan del manifesto che è uno dei manifesti appunto che sta appena dietro le spalle di Pirrone manifesto sfondo bianco due pale in primo piano sotto Taffo il nome dell'agenzia di rifiuti e lo slogan è questo siamo un'agenzia con le pale ecco capite insomma quando vi dico dell'ironia anche dissacrante associata poi tra l'altro dalla morte insomma è chiaro che il caso fa discutere e quindi per un pubblicitario è il massimo code infinite e proteste per il cambio del medico i cinque sportelli presi d'assalto fino dal primo mattino parliamo di feltre in tilt il piano dell'Ulss Donomiti con caos e lunghe attese per gli assistiti l'azienda l'assegnazione d'ufficio è vietata a fine giornata messa in regola 800 persone e questo appunto come vi dicevo è un tema importante che torna anche e lo vediamo sulla prima pagina del gazzettino che ora vi mostro la prima pagina dell'edizione locale e con questo chiudiamo centralina sul piave no dei giudici è il titolo di apertura qui sul gazzettino ma la foto centrale è proprio in 800 per il cambio del medico questa situazione ieri mattina uno dei due sportelli che l'ulsa aveva aperto prevedendo una grande affluenza di utenti molti con in mano le deleghe ecco mi devo mi devo fermare il tempo a disposizione è finito io come al solito vi auguro una buona giornata che oggi mi sa che sarà piuttosto piovosa quindi portiamo pazienza è autunno per fortuna non sono annunciate grosse piogge piogge paurose diciamo ecco seguiteci qui su radio piave seguiteci su www.amicodelpopolo.it facebook youtube instagram ciao buona giornata a tutti grazie Grazie.